Io voto Bettini perché in un momento in cui la parola d'ordine è rinnovamento e sembra che se non c'è rinnovamento non esisti, io credo che serva anche una persona intellettualmente onesta e competente per coniugare questo tipo di rinnovamento spinto alle esigenze della popolazione che tutti i giorni ha qualcosa di cui necessita, lavoro, casa. Bettini per quanto mi risulta è una persona ad hoc per portare le problematiche della gente che soffre, che ha problemi nell'Europa del rinnovamento.